Sai, credo che sia stato un errore far lavorare Pluto con Figaro. Sono d'accordo, ecco perché adesso assumeremo Figaro. Davvero? Ahah, mi dispiace dirlo, ma finché Pluto non impara a prenderla con più calma non si muoverà più da qui. Sono sicura che il piccolo Figaro non ci deluderà. Bene, Figaro, visto che prenderai il posto di Pluto, dovrai anche indossare le cucchie di Pluto. Preparatevi gente, sta per andare in onda un cartone bellissimo. Grazie.